no, no, no. Non pubblico, da tanti. Eh, infatti ho visto e non chiedi... No, no, è sempre un ricordo che rimane là, hai capito? ...degli fotografi, quando andiamo a fare la spissione. Questa è la fotografia... è sempre un ricordo che rimane là, hai capito? Eh, non so, però... Hai spizzato un po' di te nel... delle... ... delle... delle... ... a 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 una un' infornatina raga dobbiamo andare qua stefano tu dicevi te la ricordi da strada e come fare ma senza io non ho ancora la traccia no tu mi dicevi a me te ne vanno avanti te la ricordi e perciò è una parola non so quanti castagni faccio finta di cadere il prossimo muccio di castagni il prossimo muccio di castagni simula una caduta fa due spazi e poi c'è fatto pure due spazi e devo fare che tenga la zahora qua a 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 ragazzi c'è l'allevamento di caprioli qua eccoli la vedi eh sono scappati stanno allevamento di caprioli eccolo a a ma state più lontano dalle pecore marco a che città va sta vicino non lo so ma i città i città Sì, 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 sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.